Assessore Vito, un progetto che viene portato a Gorizia e che rappresenta un'importante opportunità per i giovani danzatori? Sì, un progetto assolutamente interessante. Gorizia sarà protagonista per alcune giornate della migliore danza, quindi una grande vetrina di una disciplina così amata che può effettivamente essere anche un'occasione proprio per divulgare sempre più quello che è l'amore per la danza, per cercare di avvicinare i giovani, per cercare anche di conoscere le grandi personalità e grandi artisti che verranno a Gorizia. Una grande opportunità per la città perché chiaramente può essere un veicolo importante culturale e soprattutto turistico, quindi speriamo che questa occasione sia valorizzata, sfruttata al meglio e senza dubbio una grande soddisfazione poterla ospitare nella nostra regione. Un grandissimo risultato.